Pordenone si prepara a vivere a pieno le sue vaste aree naturali e la sua storia grazie a cinque progetti del comune da oltre 2,4 milioni. In programma la realizzazione di un grande percorso pedonale e ciclabile dentro la natura dal fiume Noncello al laghetto Burida. E poi il recupero del cosiddetto sentiero delle operaie, il restauro dei vecchi lavatoi, la sistemazione di Parco Galvani e di Viale Dante che lo costeggia. Il sindaco Alessandro Ciriani. Sineco, progetti della grande valenza ambientale e storica. Sì, sono progetti importanti per aumentare i percorsi ciclabili e pedonali della città immersi nelle zone verdi e più belle e più suggestive di Pordenone che lambiscono il nostro Noncello e che ripercorrono la storia di Pordenone, penso quella del cotonificio, il cosiddetto camminamento delle operaie dove le donne andavano per raggiungere il cotonificio e tornare a casa con la riqualificazione dei lavatoi antichi della nostra città. Significa da un lato consentire di poter fruire nuovamente di questi posti così belli, di garantire la manutenzione, di fare un investimento ulteriore di 2 milioni e 400 mila euro attraverso i fondi che abbiamo intercettato. Le opere cominceranno in tempi diversi da qui ai prossimi mesi. I primi lavori iniziano in questi giorni e settimane. Con questi progetti proprio facciamo vedere la cresciuta sensibilità da parte dell'amministrazione comunale verso l'ambiente. Io ricordo sempre che se l'ambiente è sano siamo sani anche noi. È una rosa di 5 progetti chiamati C1, C2, C3, C4 e C5 che seguono un corridoio ecologico che dal centro città ci porterà fino al lago della Burida. Questi gli interventi al Parco Galvani. Verrà sistemato tutto il parco riportandolo agli schemi europei. Quindi non ci saranno più recinzioni esterne ma sarà visibile dall'esterno all'interno e dall'interno all'esterno. Verrà sistemato il sentiero delle rose ma cosa importante verranno fatti dei pozzi di ossigenazione per togliere tutte quelle mucillagini, quelle alghe che si formano sempre a livello dell'acqua. I dettagli di tutti gli interventi sono disponibili sul sito web del Comune.